Hashtag noi amiamo gli animali. Shih Tzu, scheda razza. Se in casa vuoi avere un cane di origini imperiali e dal pelo maestoso come un leone, ma piccolo e tenero, allora lo Shih Tzu fa al caso tuo. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a quattro zampe, scopriremo insieme le caratteristiche dello Shih Tzu, l'adorabile cane tibetano. Perfetto cane da compagnia, questo piccolo amico peloso ha origini molto antiche, in quanto proviene dall'incrocio tra cani del palazzo dell'imperatore cinese. Il suo nome significa cane leone, derivato dal curioso aspetto del suo manto. In passato infatti veniva tosato per somigliare a un leone, animale sacro della religione buddista. È un cane adorabile e giocoso, va d'accordo con tutti ed è raro che abbia comportamenti aggressivi. È adatto alle famiglie con bambini e per chi ama le gite fuori porta, soprattutto vacanze al mare. Infatti questo cane ama l'acqua ed è un abile nuotatore. Lo Shih Tzu è un cane robusto con una testa larga e rotonda, un muso quadrato, corto e definito a crisantemo e gli occhi sono grandi e scuri. Le orecchie sono grandi e cadenti, con un pelo così folto e lungo da confondersi con quello del corpo. Presenta poi degli arti corti ma forti e muscolosi, con un'ossatura molto spessa. La coda presenta una forte frangiatura ed è ben arrotolata sul dorso, è attaccata alta e portata alta, il che gli conferisce un portamento spavaldo. Il pelo è lungo, liscio e denso e può presentare qualsiasi colorazione, necessita di essere pettinato tutti i giorni e magari tenuto corto anche attorno agli occhi che vanno sempre tenuti puliti. Nel complesso gode di buona salute ma è abbastanza soggetto ad allergie alimentari, quindi si consiglia di usare alimenti monoproteici e a basso contenuto di grassi. Per questo video è proprio tutto, se volete saperne di più sul nostro amico cane leone cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi che ne pensate di questo fantastico cane? Fartcelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!